Allora, ciao, sono Monica, sono venuta qua a questo bel corso per la prima volta, è la prima volta che faccio questo lavoro. Mi sono trovata a fare un lavoro energetico potente che mi ha sicuramente smosso delle cose e per ora sono in una fase ancora di sedimentiamo un pochettino e poi speriamo ai prossimi giorni che mi diano delle risposte. Non mi aspettavo un lavoro così potente, sono però rimasta contenta e sento che comunque un lavoro del genere è un lavoro che mi purifica e mi mette in contatto con me stessa, per cui lo consiglio vivamente a tutte le persone che hanno una ricerca interiore e che vogliono scoprirsi. Grazie. Grazie.